Seduta monotematica sulle problematiche legate al lavoro che hanno messo davvero in ginocchio interi nuclei familiari che ormai non possono in moltissimi casi nemmeno più chiamarsi monoreddito. La regione è chiamata a risolvere tante questioni, soprattutto quelle legate a zuccherificio e gum, dove pian piano si è scoperto il magnate Volpe Pasini, che finora ha fatto tante chiacchiere ma di concreto ancora nulla. Ci verrebbe da consigliare un nuovo slogan a Pasini dopo l'acquisizione del marchio Arena. Lo slogan potrebbe essere così, sempre un po' di meno, Pasini ti dà. Ed ora davvero si spera il nuovo asset capeggiato dal gruppo di Antonio Limonini. Tra le società in house della regione molise c'è la Molise Dati, capeggiata ancora dall'ex mandatario elettorale di Michele Iorio Mauro Belviso, che nonostante l'incertezza sul futuro dei dipendenti gode di ottima salute a fior di stipendio. La Molise Dati che per anni non ha dato la giusta risposta alla regione in termini di servizi, vedi la gestione del sito, la mancanza di un archivio adeguato e di assegnazioni, vedi il rapporto con l'Asdrem e la colpa di certo non è da attribuire ai dipendenti, perché quando le cose non vanno, per esempio nel calcio, a pagare sempre l'allenatore ed invece qui stanno pagando i calciatori, cioè i dipendenti. Anche la settimana scorsa volevamo seguire online l'assituto del Consiglio regionale per svolgere normalmente il nostro dovere. E prima la segreteria della presidenza del Consiglio regionale di Vincenzo Niro e poi il dipendente incaricato Pagliani della Molise Dati, peraltro nemmeno presente al momento della nostra chiamata a Molise Dati, ci hanno fornito delle risposte. E così non abbiamo potuto visionare dalla televisione il del sito di Molise Dati. Ed ecco che la regione Molise, secondo quando riportato oggi anche dalla Gazzetta del Molise, è costretta a rivolgersi ad una società esterna, la PA Digitale Adriatica, che con ben sette delibere si è accaparrata a quasi 196.000 euro per fare cosa? Per l'acquisizione di prodotti e servizi informatici. Siamo davvero al paradosso, stessa sorta è successa all'Asdrem con altri pacchetti venduti sempre di natura informatica. Verificheremo anche da notizie che ci sono pervenute in redazione, che ci sarebbero tre dipendenti di una società privata in forza all'Asdrem per gestire alcuni servizi sempre informatici, addirittura nella sede generale di Via Ugo Petrella. Certo è che la giunta regionale sta provando a cambiare le cose, anche difficili e sicuramente ereditate dai governi precedenti, però caro Frattura, almeno quelle evidenti, bisogna da subito cambiarle.